salve cari amiche e cari amici qui il vostro capitan santencian di saluta se state ascoltando questa voce fuori sincrono e perché mi sono scordato di attivare il microfono del mio vecchio cellulare nokia asha 302 e allora mi sono filmato muto e come dire già mi è successo altre volte che adesso mi sto doppiando io stesso e quindi vi volevo ricordare che ultimamente ho fatto molti video short per youtube soprattutto di gastronomia cassareccia e questo mi ha fatto aumentare molto le visualizzazioni del mio canale e anche il numero di iscritti perché la gente ha sempre meno tempo da dedicare alla visione dei video e i miei video di 15 20 40 minuti non riguarda quasi più nessuno però ecco commentate qua sotto se volete che io mi faccia dei video normali della durata di più di otto minuti anche se conoscevo un amico che ha fatto moltissime visualizzazioni prima ancora che esistessero gli short di youtube perché lui faceva dei video che andavano dai 30 secondi ai 50 secondi però ne faceva più di 10 al giorno e così ha fatto milioni di visualizzazioni e fattura un sacco di soldi io adesso sono deciso a fare dei video di una durata inferiore agli otto minuti perché ho visto che se li faccio di cinque sei minuti come all'inizio i primi anni può succedere che guardino il 40 il 50 per cento del video e non è lo stesso che ti guardino il 50 del 50 per cento di un video di quattro minuti anche guardino il 15 per cento di un video di un'ora e mezza io ho fatto una live anche di due ore e mezzo e la ritenzione di spettatori è stata di 15 minuti e quindi ho fatto qualche ora di visualizzazione con una live di due ore e mezzo invece ho fatto con un video di quattro minuti ultimamente ho fatto otto ore allora importante non solo che ti guardino il video ma quanto tempo lo guardano perché se entrano in un video di un'ora o di mezz'ora o di un quarto d'ora se ne vanno subito invece devono continuare a guardare a guardare a guardare e a guardare anche altri video ecco perché adesso io sono deciso a fare dei video puntualmente puntualmente che durino dai 3 agli otto minuti spaccati e poi invece sto improvvisando perché non mi ricordo quello che ho detto nel video adesso ci sto mettendo l'audio ma ecco vediamo un po intanto aggiusto lo specchietto mi guardo sono bello vabbè allora vi ricordo intanto che mi guardo o che guardo dietro non mi ricordo che facevo che sono aperte le iscrizioni di youtube nel mio canale di youtube chiaramente voi vi potete abbonare e se vi abbonate mensilmente io parlerò promuoverò i vostri video ai vostri canali e farò dei video a richiesta e poi se invece voi volete premiare la produzione dei miei video potete benissimo potete benissimo comprare un super like un super grazie meglio sotto i miei video ecco quando uscirà questo video in premier voi potete fare un super chat o uno sticker nella nella chat però potete fare clic o sotto questo video o sotto qualsiasi video per dire che vi è piaciuto su un super grazie che l'icona a forma di cuore e potete anche regalare un super grazie a persone che vi stanno a cuore per quello che l'icona a forma di cuore così rotonda 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 ecco e io sempre ve lo ripeto perché ci sono dei vantaggi abbonarsi al mio canale di youtube non aspettate ecco questo è tutto vi salutavo da fuori più o meno vi dicevo queste cose poi chi se le ricorda adesso che che ci avevo anche fretta di tornare a casa comunque tengo a precisarvi vi ringrazio di tutto quello che fate per me di seguirmi di guardare i miei video buon fine settimana anche se questo video lo pubblicherò la settimana che viene non questa domenica ma la prossima comunque ciao